Parla, balla, insegna yoga, racconta storia, traduce istantaneamente, risponde alle telefonate e controlla la vostra proprietà. L'androide di famiglia presentato al CES 2016 costa 1299 dollari. A realizzarlo Ubtec Robotics, una start-up californiana che ha avviato una raccolta fondi su Indiegogo per la sua progettazione. Il piccolo robot da compagnia viene considerato un amico o un membro della famiglia, riconosce i comandi vocali e gli input ricevuti tramite app per iOS e Android. Oltre a microfoni, altoparlanti e videocamere, Alpha 2 integra un accelerometro a tre assi sonar e sensori touch. Grazie ai 20 gradi di libertà può eseguire diversi movimenti con estrema agilità. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.